segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te secondo me oggi se noi promettessi noi comunità internazionale vediamo garantito da chi poi promettessimo a putin di congelare l'espansione della nato ad altri paesi a cominciare dall'ucraina naturalmente per svezia finlandia svizzera e tutti gli altri paesi candidati io credo che questo intanto sarebbe qualcosa che putin potrebbe esibire dicendo ecco abbiamo vinto perché ricorrentemente anche nel discorso di ieri putin ha detto che la nato li sta cerchiando che percepisce questo con una sicurezza una che hanno dovuto reagire preventivamente per l'occidente sarebbe una maniera per mantenere una promessa già fatta e diciamo non rispettata e non compiuta molti non ricordano oggi fanno finta di non ricordare che nel 92 fu assunto questo impegno informale salvo poi incoraggiare ad entrare nelle porte aperte più che lasciare le porte aperte fino ad oggi sarebbe una maniera anche per applicare l'articolo 10 che prevede i nuovi ingressi laddove questo articolo 10 del trattato nord atlantico dice che i paesi candidati che entrano devono comportare un aumento della sicurezza e non mettere a rischio una destabilizzazione di una situazione già gravemente compromessa quindi si tratta di rientrare nei ranghi ci sono tanti altri motivi per cui questa soluzione sarebbe dovrebbe essere però le dice non piace non può piacere esatto esatto agli americani ad alcuni altri paesi va propinata piccole dosi forse chissà un giorno ci si possa lavorare su questo e arrivare veramente a una soluzione dignitosa per per gli americani ti chiedo